Sulla discarica incendiata a Chieti emergono i primi dati rilevati dall'Arta sulla presenza di sostanze tossiche nell'aria. C'è preoccupazione tra i residenti e dopo le prime manovre di emergenza ora si riuniscono tutti i tecnici per avere un quadro più chiaro. Abbiamo ritenuto doveroso convocare un vertice fra tutti i soggetti in campo. L'abbiamo fatto come parte dirigente, quindi ci incontreremo questa sera a Chieti per analizzare la situazione e quindi fare un punto sullo stato dell'arte e valutare eventuali provvedimenti da assumere nell'immediato. La presenza di discariche in Abruzzo è un fenomeno testimoniato da una mappa che riporta i siti a rischio. La difficoltà in questi casi, spiega l'assessore Mazzocca, è nell'intervento che è di competenza dei comuni, come nel caso di Tollo che per mettere in sicurezza una discarica risalente al 1998 ha dovuto reperire 500.000 euro grazie anche all'intervento della Regione. Lavoro proficuo e costante che abbiamo fatto insieme al Comune di Tollo, al sindaco Angelo Radica, si è riusciti da prima ad approvare un progetto a farlo finanziare, adesso sono in corso di affidamento ai lavori, per cui nel giro di un paio di mesi, qualche mese, riusciremo a chiudere questa, ripeto, ferita che non è l'unica in Abruzzo. Infine, in merito agli ultimi casi di inquinamento e presenza di discariche, qualcuno ha paragonato l'Abruzzo alla terra dei fuochi, ma l'assessore all'ambiente smentisce ogni similitudine. Fare un'analogia con la terra dei fuochi, con Abruzzo, mi sembra davvero molto esagerato. Certo è che questo però non ci fa abbassare la guardia, nel senso che le cose che pian piano stanno venendo fuori, che stiamo scoprendo anche grazie all'aiuto di diverse associazioni, comitati che ci stanno segnalando queste cose, evidentemente cristallizza l'attenzione su una situazione generale che probabilmente negli anni precedenti si tendeva, se non a sottacere, quanto meno a sottovalutare.